Un pezzo di Alessandro De Angelis sulla galassia centro-sinistra 5 stelle ed intorni. Letta e conte la foto delle buone intenzioni, la prima da leader di partiti in difficoltà, una cornice ancora tutta da riempire nei contenuti, nel patos e negli assetti dopo l'incontro che c'è stato nelle scorse ore. Allora, prendiamo per buone le buone intenzioni Alessandro e però andiamo a guardare quali impedimenti hanno perché mi avrebbe da dire che stiamo ragionando di un cantiere e mi pare che tu così chiude il pezzo e però ciascuno dei due signori che sono nella foto ha qualche problemino con il proprio cantiere, no? Quindi si tratta che mette a posto prima il proprio cantiere poi eventualmente il cantiere comune e poi c'è una realtà che rischia di diventare davvero difficilissima nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Insomma, qual è il problema con cui devono confrontarsi le buone intenzioni? La nuova fase, cioè è chiaro che va ricollocata questa alleanza nella nuova fase che è molto diversa dalla precedente perché prima aveva il collante del governo, del potere, Conte nel ruolo di federatore, diciamo, no? Il famoso punto di riferimento dei progressisti poi lasciamo stare se funzionava o non funzionava però è cambiata totalmente la fase. Conte si è presentato a questo incontro chiaramente come leader in pectole ma non è stato ancora investito nel movimento c'è un silenzio che indica anche un muoto politico di azione lo dico in maniera valutativa e senza polemica ma l'unica cosa che abbiamo sentito in queste settimane in pieno governo Draghi con questa situazione difficile i vaccini, l'emergenza, la realtà economica e il decalogo sulle presenze televisive e chi andrebbe inquadrato e chi no ora lo dico davvero senza eronia questo indica, ce lo siamo raccontato anche qui una crisi identitaria profonda frutto del fatto che questo governo è stato subito da tutte le forze politiche che per i 5 stelle rappresenta il fatto che ormai entrati per cambiare il sistema sono totalmente in balia del sistema Enrico Letta ha un partito che anch'esso è collassato colpisce il suo attivismo cioè questo Letta mi sembra un nuovo Letta rispetto a quello che avevamo conosciuto però l'ha scritto anche ha imparato delle cose diciamo e quindi sta cercando esatto, secondo me guarda innanzitutto l'altare dopo la polvere non è mai come l'altare prima quelli bravi tornano con una maggiore consapevolezza secondo me Letta ha capito un punto fondamentale nel Partito Democratico che è un partito che fa goscita segretari diciamo con una certa... Sì, ha un'attitudine a distruggere ha un'autodistruzione tendenzialmente Letta ha capito che nel Partito Democratico si rischia sempre diciamo a guidarlo ma se non decidi rischi di più ecco, cioè se interpreti il ruolo Aspetta che voglio chiedere aiuto a Sappino perché quando dici...